Mario Marsilia, circolo canottieri Irno a metà del terzo giorno di regate. Le tue impressioni sul campo? È un campo con vento irregolare, molti salti di vento e poco vento in questi giorni. Le tue regate? Le mie regate sono state tutte in E3 intorno al 15 e abbiamo avuto sempre vento in costante, infatti stamattina siamo usciti con 8 o 9 nudi e adesso ci ritroviamo un'altra volta a terra con poco vento.